Sei stato il mio angelo? Tutto attorno a me era buio. Non luttavo, non sorridevo, non avevo coraggio. Non raccontavo la vita a chi non riusciva a capirla. La speranza era vana. La bontà non riuscivo a donarla. La mia anima errava nel trovare qualcosa di indefinito. Ad un tratto mi apparve una bellissima creatura che cercò di avvicinarsi a quest'anima che non aveva pace. Non capivo chi fosse o cosa volesse, ma mi vogli fidare di questo meraviglioso angelo. L'anima si trovava là, dove i colori respiravano vita, dove vita riprendeva colore. Per pura casualità, anima e angelo capirono che i loro pensieri volevano parlarsi.